William e Kate Middleton furono i grandi protagonisti del matrimonio in Giordania. Guest onore matrimonio reale del principe ereditario Hussein Bin Abdullah II, figlio della regina Rania Giordania Re Abdullah, e la sua fidanzata origine saudita Rayo Akhaled Al-Seif, figlia noto imprenditore, laureato in Siracusa Architecture University New York un anno più grande lui, la principessa Galles, accompagnata da suo marito, ha mostrato vestito perfetto. La duchessa arriva in Giordania Sarampalas di Amman dove si è svolto il matrimonio, in un lungo abito Elie Saab spalle, collo e braccia coperte. William rifornito da Kate, quello che è successo al vero matrimonio in Giordania la coppia arriva al palazzo e puoi vedere la vera coppia salutare i coniugi. La duchessa smette di parlare con la sposa ed è dopo alcuni momenti che William fa un gesto inerente a sua moglie. Le immagini che puoi vedere William che muove i suoi le mani mentano in modo normale Kate parla con Raiwa. Il collegamento dei principi del Galles con la Giordania è da molto tempo. In particolare, Kate viveva lì per quasi tre anni quando era molto piccola e il padre, direttore delle British Airways era stato trasferito ad Amman nei primi anni 80. Nel 2021, William e Kate ha scelto una foto delle vacanze in Giordania con i loro figli George, Charlotte e Louis come cartolina di Natale.